Ecco la sigla della convenzione che ha per scopo la realizzazione in collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Rentale e la Società Alessandrina di Italianistica, di un concorso premio allo scopo di concorrere alle celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Non c'è niente di meglio per una società di italianisti che vantire un concorso su Dante, immagino. Certo, l'idea ci è venuta, insomma tenuto conto del fatto che negli scorsi anni abbiamo già impostato, messo in campo, una iniziativa consimile. Qualche anno fa infatti abbiamo coinvolto gli studenti liceali di tutta la provincia in un concorso premio dedicato a Umberto Eco. Adesso abbiamo cercato di sfruttare questa annata dantesca concorrendo in qualche modo a onorare la memoria del sommo poeta. E abbiamo pensato di coinvolgere il Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale. Devo dire che le italianiste dell'Università hanno accolto con grande favore questa iniziativa e sono particolarmente lieto che poi sia intervenuto, intervenga come partner anche la fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, le cui risorse sia culturali che organizzative che finanziarie sono state indispensabili per conferire a questa iniziativa una solidità che altrimenti non avrebbe avuto. Due le sedi universitarie coinvolte, quelle di Alessandria e Vercelli, ed ecco a quali corsi è rivolto. Il contributo è rivolto a studenti della laurea triennale e anche a studenti della laurea magistrale, quindi sono studenti che si sono contraddistinti proprio per il loro merito, diciamo, culturale, le loro capacità critiche, appunto. Quindi un'ampia gamma di possibilità, al momento abbiamo una quindicina di iscritti che si daranno, diciamo, battaglia per ottenere questo importante premio. Questo è un evento particolarmente interessante, particolarmente importante perché? Perché da un lato si dà risalto ai giovani, abbiamo un concorso a cui parteciperanno gli studenti e quindi i giovani che debbono conoscere Dante devono saperne apprezzare l'opera. Dall'altro abbiamo la collaborazione fra questi tre enti, l'Upo, la società Alessandrina di Italianistica e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Alessandria. Mi permetto di sottolineare questo aspetto perché per noi è molto, molto importante questa collaborazione, che ci auguriamo di tutto cuore che possa andare avanti e possa procedere con altri eventi dello stesso tipo in futuro.